Avete presente quando siete in lunghi viaggi con i vostri amici e incominciate a parlare di argomenti assurdi? Bene, in questa puntata abbiamo raggruppato diversi amici ed andremo a sentire i loro assurdi argomenti che usciranno fuori. Siete pronti? SIGLA! Ti svegli un po' più schiavo, non è nemmeno bello. Un po' il ritiro, non l'ho mai guidato, può essere bello. E fai incontro di te? Questa è la terapia, non è la mia posta, non è la mia posta, non è la mia posta. No, perché adesso ho fatto il calcolo, sono 25 minuti per andare. Se vuoi possiamo partire 8, però... Ho deciso di quanto è? 1 km, 1 km, 1 km, 1 km. Eh, possiamo partire 8, ma ti ricordo l'autoconata 5, perché non è senza errori. Quindi? Che angio? E' rosso, e'... Ti vogliono proprio per farci roba. Come andare a vivi? No, l'autoconata 5, non so. Adesso vediamo un po' come specifico, come funziona. Magari c'è qualche più stella. Prima? Sto vi disposto a... No, no, è il ritiro. No, è il ritiro. E' qua adesso, destra, destra, qua dove entra il camion. Eccolo qua, posto Cassano. Se ti dico tutto a destra, e' tutto a destra. Se vado a 10 km, ancora a destra, tutto a destra, tutto a destra, se ti dico così. Tiriamo intorno come non mai. Ma ancora, dritto. Ora si, cioè, non è in centro da scelta. Un chilometro manca a muore. E' solo che mi deve ascoltare. A destra di qui, ma dov'è che ce l'ha la testa? Capito che è emozionata. Però se ti dico a destra, non dritto. Tu sei a rabbi. Non è che mi cazzo, che non mi ascolti. Mi deve ascoltare quando le dico il giri a destra. Adesso non posso neanche far volare il drone, perché è nero. Avrà preso tutto il calore, ho le batterie dentro lo zaino, che è nero. Saranno ostionanti. Vabbè, non siamo ancora arrivati. Cazzo, abbiamo, siamo in riserva. Mi si è illuminata la spia. Siamo arrivati. Mi fa male un po' il culo, ragazzi. Al piazza fiere, si. Ok, faccio che qua potrebbe entrare. Dovrebbe essere qua, no? Giusto? Sì. Buono, chiarissimo, me ne sto in mezzo alla strada. Giusto. Bordello. Ok, da qua non abbiamo più il navigatore. Sì, 11 settembre è qua davanti, amore. Quindi a destra qui siamo arrivati. Aspetta, devo chiedere... Ah sì, è così. Sì, se la spara... Eh, ma devo chiedere... Forse ci fanno entrare, aspetta che chiedo. A chi? E ai tizi là, c'è un tizio là. Salve, siamo della lista b*********. Lista b*********. Grazie. Il parcheggio è un po' ovunque. Ok, grazie. Ma è un espositore per l'elettronica? No, no, siamo aiutanti, staff. Ci aspetta Mar. Allora, adesso un poteggiate domani, non lo siete fatti o potete entrare. No, non lo so, ce li devo andare per quello. Se li li danno, non lo potevi, perché senza affatto mani non. Sì, no, non lo so, lo so. Però non so dov'è questa distanza. Dovrebbe essere sopra il piano, il primo piano, però non sapevamo dove parcheggiare, perché ci aspettavamo. Però il problema è dove parcheggiare. Non lo so, se sapessi dove è messo, se il padiglione è uno, due o tre. Dov'è l'expo d'elettronica? Allora, il padiglione, qui, guarda, il tre, questo qui. Il tre, ok, perché lui so che è di sopra l'expo. Allora, è di sopra. Di sopra, il primo piano. Passa sotto di qui. Ok. Arrivo fuori su un piazzalone grosso. Ok. A destra c'è una grossa metrata. Lì ci sono le scale che portano per un piano. Ok, perfetto, grazie. No, no, grazie, grazie, va bene. Vai. Sì. A sinistra. Capito, dai, ah, di passe. Ovvio non ce li abbiamo, è oggi, primo giorno, scusate. Forse facciamo un primo parcheggiare lì dietro. Buttati lì, guarda, sopra. Ti posso dire sì, buttati lì sopra. Ehi, che fa, no, me. Ma poi io dopo come faccio a scendere? Tiri giù, non basti miele, non so neanche dove cazzo ho detto, ho detto pitrate. Ah, forse quello è il più compiato. Ok, va, va. Mamma mia. Siamo arrivati, figa, raga. Oddio, hai frenato, amore? Ok, si va. Non si apre. Dovrebbe essere quello lì.